A Lassio 1953, a Mario Berrino, pittore e titolare del Caffè Roma, viene l'idea di trasformare un rustico muricciolo in un susseguirsi di piastrelle irregolari, vivacemente colorate, che riportino le firme dei più illustri clienti del suo locale. Allo scrittore Ernest Hemingway l'idea piace subito e così Berrino sistema le prime tre piastrelle in ceramica realizzate dal ceramista Pacetti. Insieme alla firma dell'autore di Addio alle armi ci sono quelle dei componenti del quartetto Cetra e del chitarrista Cosimo di Ceglie. È nato ufficialmente il muretto che diventerà il simbolo di Lassio nel mondo. A Mario Berrino, al suo muretto, alla sua produzione pittorica è dedicata la mostra Un mare di colori, inaugurata giovedì 5 maggio a Palazzo Cisterna per iniziativa della Galleria Berrino della Fondazione Mario Berrino per il muretto di Alassio e del Centro Culturale Mario Pannunzio di Torino, con il patrocinio e il sostegno della città di Alassio e della città metropolitana di Torino. Con le mie sorelle abbiamo voluto assolutamente ricordare papà a 5 anni dalla scomparsa, diciamo scegliendo tutta una serie di quadri che ce lo ricordano, sono quadri che abbiamo ritrovato dopo la sua scomparsa, che lui metteva da una parte, teneva nel suo studio, non voleva che si entrasse e sapeva che questi quadri li avremmo visti soltanto quando non ci sarebbe più stato e ci sembrava bello condividere questa emozione con gli amici che verranno a trovarci in questi giorni. Berrino è un amico, un personaggio straordinario, un personaggio unico nel panorama sia dell'arte che è, diciamolo pure, dell'imprenditoria, dell'invenzione, era un uomo che ha inventato delle cose divertenti, dal muretto a mille altre cose con corsi d'arte, con corsi di bellezza eccetera. Un personaggio unico, un personaggio che ha animato il mondo dell'arte, il quale mondo dell'arte ha sicuramente bisogno, diciamo pure di personaggi eccentrici, di personaggi che non stanno nel seminato, ma è viva, meno male, siamo stufi del seminato. La mostra sarà visitabile sino a venerdì 20 maggio, dalle 9 alle 17, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 il venerdì e anche sabato 21 maggio, in occasione della visita guidata a Palazzo Cisterna, sarà possibile ammirare i quadri di Berrino.